Sergio tra amore e squalifica. Sergio nutre un forte interesse per l'ex tentatrice Greta Rossetti e questo è ben chiaro a tutti. Infatti Sergio non ha mai negato quella forte attrazione che ha con la ragazza e addirittura le piacerebbe andare oltre. Infatti in una clip si è visto l'uomo chiedere a Greta di fare l'amore. Ora Sergio non ha più il rivale Vittorio perché il ragazzo è stato votato ed è uscito dalla casa per volere ovviamente del pubblico. Ma nonostante questo Sergio ha una nuova minaccia in casa l'inquilino Alessio che però si sta dimostrando una gran bella persona. Infatti l'uomo non ha voluto approfondire la sua conoscenza con Greta Rossetti e non dare un dispiacere a Sergio d'Ottavi che è molto coinvolto con la ragazza. Ora proprio nelle ultime ore sembra che Sergio è nella bufera per via di una presunta bestemmia che il ragazzo ha pronunciato e anche per un linguaggio particolare. Il web è insorto e lo ha accusato di aver infranto una delle regole principali del programma. Quindi stasera ci si aspettano dei provvedimenti e poi il ragazzo è anche in nomination. Quindi vedremo cosa succederà. Se questo inizio di una storia d'amore sarà interrotta dalla nomination o da un altro eventuale provvedimento. E voi come la pensate? Se sono rose ovviamente fioriranno. Commentate qui sotto il video e mi raccomando iscrivetevi al canale. Grazie a tutti.